Stiamo parlando di un prodotto usato tutti i giorni, il caffè, è il prodotto presente qui nel territorio, il cedro. Lo sposalizio è nato spontaneo, in quanto i profumi del caffè si sposano perfettamente con il cedro. Questo si può unire in un aperitivo, si può unire in un dessert, si può unire anche in un qualsiasi piatto. In quanto il caffè noi lo pensiamo sempre solo legato a una tazzina, a un espresso, ma in realtà il caffè può essere un ingrediente di qualsiasi cosa e non solo del classico tiramisù o del caffè shakerato che possiamo trovare ovunque, insomma il classico espresso e ghiaccio, ma può essere anche utilizzato, che so, in un alimento come la carne nel barbecue, lo potrei macinare e mettercelo sopra. E perché non farlo assieme a delle scorse di un agrume, lime, e quindi perché non il cedro? Il cedro è un alimento, un frutto molto aromatico, dolce, ma anche amaro. Il caffè, o meglio la nostra tazzina, che cos'è? Deve essere il perfetto equilibrio tra dolce, acido e amaro. Quindi già per questo fisicamente riesce facile il conubio. Non solo l'Accademia è sorta per tutelare questo frutto, diciamo, prodigioso e magico di tutto il Mediterraneo, no? Che tra l'altro anche, come tutti sanno ormai, nel mondo ha anche una valenza religiosa perché è legato agli ebrei per la festa delle capanne del Sukkot. Ma continuamente presenta delle novità in quanto si abbina, nelle sue applicazioni, a tante varietà, a tante soluzioni, a tante altre realtà. Per esempio, nell'ambito baristico e nell'ambito alimentare, adesso abbiamo questo matrimonio con il caffè, che sono tra l'altro due prodotti, diciamo due frutti, che in parte hanno delle origini comuni dal punto di vista geografico, va bene, ed hanno anche, posseggono proprietà organolettiche eccezionali. Ora, il fatto di creare con il cedro dei cocktail al caffè oppure degli aperitivi al caffè o magari di usarlo in pasticceria, va bene, oppure solamente, dico solamente, il caffè che conclude un pasto, che ultima un pasto, creando un'atmosfera di solidarietà, di sazietà, di soddisfazione, ecco, di benessere, diciamo quasi di beatitudine dello stare assieme, no? Il cedro, invece, va bene come aperitivo, soprattutto come aperitivo, un'atmosfera che prepara il cibo da un punto di vista di atmosfera mentale, va bene, e il caffè che lo conclude. Sono due prodotti che praticamente svegliono in noi delle sensazioni primordiali, va bene, non banali, raffinate e nello stesso tempo soprattutto cementono amicizia, solidarietà e volontà di conoscersi. Grazie.